Ritorno a te alla tua presenza Ritorno a te al mio primo amor con tutto il mio cuore Io ti adoro, Signore con tutto il mio cuore Ritorno a te Per dirti Io fisso i vostri occhi e vi do in uno sguardo di tenerezza Molti di voi presenti riceveranno grazie e sentiranno la mia presenza Come una madre consola i suoi figli così io consolo voi Dio sta vegliando su ciascuno di voi per donarvi lo spirito consolatore affinché vi decidiate a fare un cammino di santità Non permettete che Satana distrugga l'opera che Dio ha iniziato con voi Dio non può concedere grazie senza il vostro sì Figli miei, ritornate a quell'amore che voi avete assaporato le prime volte Pregate 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 per i vostri pastori Con il digiuno e la preghiera voi potete aiutarmi a realizzare il progetto di Dio Vi benedico tutti e vi ringrazio per la vostra presenza Pregate per i vostri pastori Pregate per i vostri pastori E' un cammino di santità Sì Aiuto Pregate per i vostri pastori E' un cammino di santità 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.